L'Imperial War Museum d'Axford è una sede di staccata dell'Imperial War Museum di Londra. Il museo si trova nei pressi di Daxford, vicino Cambridge, in un vecchio aeroporto restaurato e ampliato. Il museo è articolato su otto hangar e al loro interno vi sono esposti aerei, veicoli militari, artiglieria e navi militari. Il museo si trova nei pressi di Daxford. 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 Grazie a tutti.